Brian, tu che sei un individuo profondo, vorresti aprire te stesso alla verità di nostro signore? Stai parlando alla persona sbagliata, Meg, e io sono ateo. Cosa vuol dire? Che io... che io non credo in Dio. Cosa? Brian, come puoi dire questo? Credevo che l'aveste sempre saputo, insomma, non vado mai in chiesa. Sapete come la penso a riguardo? No, Brian, una cosa è criticare l'organizzazione della chiesa, ma noi crediamo in Dio in questa casa. Insomma, voglio dire un ateo, cioè è la cosa peggiore che una persona possa essere. Non avrai nessun regalo per Natale, Brian! Ragazzi, cerco solo di dire che... Chiudi il becco, bestia! Io ho il dominio su di te e io ti comando di credere in Dio! Mi dispiace, è solo che non vedo nessuna prova. Voglio dire, guardate il telescopio di Hubble. Ha scoperto indicibili meraviglia di un vasto, inesplorato universo, ma non una sola immagine di un tizio con la barba seduto su una nuvola.